In mattinata il corpo di un escursionista tedesco di 57 anni è stato recuperato da una forra della Valfogare nella zona di Kandaten. La macchina dei soccorsi si era attivata a mezzanotte e mezza su segnalazione della moglie dell'uomo, preoccupata perché la traccia GPS del percorso del marito, che stava seguendo da remoto, era ferma nello stesso posto da diverse ore. Il 57enne stava percorrendo al contrario la Monaco-Venezia ed era partito da un bed and breakfast a Bolago con l'obiettivo di raggiungere l'ostello di Vallemperina. Una squadra mista di sette soccorritori e tre vigili del fuoco ha iniziato per lustrare la parte media e bassa della Valfogare dove si era interrotta la traccia affinché intorno alle tre non sono stati individuati galleggianti nell'acqua una felpa e dei soldi. Le ricerche si sono intensificate le sei e si sono interrotte poco dopo quando i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita in una vasca. Dalle prime ipotesi l'uomo che stava seguendo il sentiero degli ospizi, trovatosi di fronte il torrente ingrossato da guadare, ha cercato di superarlo più a monte ed è scivolato per 50 metri. Non potendosi oltrepassare il cordevole in piena, l'elicottero dei vigili del fuoco ha trasportato la salma in località Salet dove è stata affidata al carro funebre.